Renato Nantale Chiesa è un artista italiano che ha gestito per si stagionare nella scena contemporanea con la sua identità unica. Nel Lico, in Italia, 70 anni fa, ha studiato l'applicazione in Francia, dove ha anche lavorato e ha esibito per molti anni. Ha vivuto e lavorato in Grecia, dove ha gestito il capitale dell'art galleria e due opzioni di opzioni che li hanno. La sua carriera è stata rilasciata da compagni di riconoscenza internazionali. Il suo lavoro, auctions in le più prestigiosi auctions in Italia e in Europa, ha diversi centri. Renato Nantale Chiesa è una personale che vive dalla sua propria luce e non può declassificare dentro dei specifiche art movimenti. Figurative o abstracti, per lui, sono pure lettori o convenzioni. Il post-matter è l'energia e la determinazione che l'artista mette in place. Feature di questo artista sono l'exuberanza e il dinamismo che emerge dalla sua pittura e scelta. Un spielo di variazione di colori come le valli fantasmagoriche, che sono il tipico di background di questo soggetto. Il spielo di tutto rappresenta il suo leitmotiv come un marco di riconoscenza. Spie che ricordano due galassie, due un mondo conosciuto. Quindi, vedendole, trattiamo di vivere in un cielo fantastico. Ma queste sfere possono riflettere anche un'atmosfera più famiglia, come un tavolo di tavolo. Il mestiere di questo artista è che gioca in diversi strumenti, che sono enormi e incredibilmente piccoli, dimostraendo il stesso flair creativo e un rilievo speciale nel vero senso del mondo. Chiesa gioca con colori come un spielo di esperto, che attenzione di attenzione, anche sulle tragettorie immaginabili, iniziando da anche i punti più semplici, può toccare il tutto. Se non è un overflowing di vitalità per supportare o per mantenere la palla, è il suo santo santo. L'energia di artista è anche in un giro di santo quando non è riuscita a usare. Renato Natale Chiesa piace sorprendere, grazie ad un'intuizione che va più oltre le esperienze. La serie di supporti, delle famose donne e dei uomini, come i cigaretti e l'autobiografo di divertimento, corrispondono, a livello di umano, con le rappresentazioni delle spiei. Ma anche in questo santo 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 santo, l'artista è able to land with this as a perfect balancing act, e this demonstrates the stylistic aplomb of this maxtel, a spirito emerging from the stormy chaos of his own motions to keep this course along a unique direction. con le rappresentazioni delle spiei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.